Di fronte a lui, diventato il primo giocatore di Cremona a festeggiare 100 presenze Ruzier subito, l'anticipo di Tonut che vola verso Canella Palla a Gazzotti che in qualche modo riesce a tirare, poi c'è stato un tri Gioca due con Vidmar, altro che forzare Se li capita a quel momento del blackout può fare anche dei disastri Dai e vai con Vidmar Emotivamente sono giocatori dentro la serie in modo incredibile Attacca il ferro Tonut rimane contro Gazzotti, prova ad attaccarlo, si appoggia Ancora una volta Watt consegnato per Tonut, linea di fondo, galleggia Stindey lo consegna nelle mani di Tonut che batte nuovamente Ruzier E va in Stindey, poi Cerella, poi Tonut Crawford prova a fermarlo, non fa, non passa Canestro, fischio Il difensore poter mettere il suo peto Ancora una partenza di Steph Magari lui voglia rientrare ma lo staff per il momento preferisca altrimenti Gara, Tonut contro Sonders si arresta in area Di 17, Tonut attacca Stojano e...